Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.GF VIP alle corde, l'ex VIP pone denuncia la produzione del programma, la morte di Maurizio Costanzo ha lasciato il segno Il GF VIP 7 sta inesorabilmente giungendo alle battute finali del reality, e il gioco spietato di nominations ed eliminazioni si fa sempre più serrato Lo stress nel loft di Cinecittà è alle stelle, complice la prospettiva dell'ambito Montepremi, nonché la pressione derivante dalla lunga reclusione tra le mura del format I concorrenti storici, in effetti, hanno trascorso gli ultimi sei mesi della loro vita all'interno della casa, a riparo dal sentiment della rete, dai contatti con i familiari e dagli aggiornamenti su cronaca e attualità Ne è un esempio anche la morte del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo L'ex tronista Davide Donadei, recentemente eliminato al televoto, ha appreso la triste novella solamente una volta guadagnata d'uscita dalla Porta Rossa, e ha accolto la notizia con sgomento Davide Donadei ha presenziato al dating show Uomini e Donne nella stagione 2021 fratto 2022, militando per molti mesi nel parterre Mariano, e ha sviluppato un rapporto di stima ed affetto con la conduttrice del programma Per tale ragione, ha rivolto agli autori del GFVip una recriminazione velata, ma che induce alla riflessione GFVip, Davide Donadei piangue Costanzo.l'extronista, secondo quanto riportato da Anticipazione IF, ha esordito, la redazione di Uomini e Donne è come una famiglia per me . Davide Donadei ha inoltre aggiunto, quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato, perché non hanno detto nulla? Ha poi argomentato, in puntata, sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visti anche i rapporti di noi con i suoi programmi Tanta gente, se lì, deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto molto La velata accusa, d'altronde, risulta in aperto contrasto con i diktat della produzione, per espresso regolamento, i concorrenti devono restare all'oscuro di ogni evento al di fuori delle mura di Cinecittà Al tempo della prima ondata di Covid-19, però, il conduttore aveva compiuto in via eccezionale un'incursione in casa, informando il cast della gravità della situazione Pur non interrompendo il format, infatti, gli autori hanno ritenuto doveroso comunicare ai viponi la delicata situazione sanitaria Qual è il confine, allora? Esiste inoltre un precedente, risalente al GFVIP 6 Il precedente al GFVIP.Nel dicembre del 2021, l'attore Paolo Calissano è stato rinvenuto senza vita nel suo appartamento di Roma, notizia che ha sconvoltosi ai fan, che il mondo dello spettacolo All'epoca Davide Silvestri, arruolato nella casa del GFVIP 6, era rimasto totalmente all'oscuro del decesso dell'amico, con cui aveva militato nella soap opera vivere Molti spettatori, consapevoli del rapporto tra i due, avevano richiesto un'eccezione al severo regolamento, ma inutilmente Occorre forse rivedere le norme previste dalla produzione del GFVIP? Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti!